Una legge speciale a favore delle città d'arte. La proposta arriva da Firenze, dove all'interno del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio si è tenuta la prima giornata degli stati generali del turismo. Istituzioni, imprese, professionisti, direttori di musei e centri fieristici a confronto per circa due ore su una comune strategia di ripartenza in seguito al lockdown. La crisi delle città d'arte è grande in tutto il mondo, in tutta Italia. Firenze sta soffrendo. Insomma, dobbiamo lavorare tutti assieme, come abbiamo detto, per ripartire e per costruire un modello importante, soprattutto di via italiana al turismo. Tra i temi toccati, la lotta al turismo mordi e fuggi, investimento su qualità e professionalità degli operatori, quali le guide turistiche, e gli aiuti economici per sopperire alla mancanza degli introiti derivati dalla tassa di soggiorno. La rassicurazione di una norma per disciplinare il famoso fenomeno cosiddetto di Airbnb, ovvero una legge che consentirà alle città d'arte di regolare, quindi anche limitando il numero e l'arco temporale, le cosiddette locazioni turistiche brevi, distinguendole dalle attività imprenditoriali vere e proprie. Nella giornata di giovedì, l'evento clou sarà l'incontro tra il primo cittadino fiorentino e gli ambasciatori di 19 paesi. Alle delegazioni diplomatiche sarà illustrato il piano Rinasce Firenze.